Dal primo novembre saranno disponibili nella città di Pavia altre quattro postazioni nuove di by sharing. Le postazioni attuali sono quelle presenti davanti al Policlinico in stazione in Piazza Vittoria. Noi ne installeremo altre quattro, uno in Piazza Ghinalia, uno in Piazza Leonardo da Vinci, uno in Via Ferrata e l'ultima la installeremo al parcheggio di Viale Indipendenza, in modo tale da agevolare gli spostamenti per chi deve arrivare in centro, magari da casa oppure che deve andare a scuola. Il prezzo è assolutamente calmerato, vuol dire che io con 20 euro all'anno mi abbono al servizio e l'utilizzo della bicicletta per la prima ora è assolutamente gratuito, quindi Pavia in mezz'ora la si gira tutta, io avrò un servizio a 20 euro, dove potrò farlo attraverso un'applicazione dello smartphone, attraverso questa applicazione posso anche vedere dove sono collocate le postazioni, dove ci sono le biciclette libere o delle postazioni libere per mettere la bicicletta quando io arrivo. Quindi stiamo davvero creando quel contesto di Smart City per dare la possibilità di decongestionare un po' i nostri centri storici dalle macchine e quindi una migliore qualità di vita per tutte. Dottor Marco Giuppone, Bici in Città, questa iniziativa che ormai del Pavia c'è un po' di tempo, ma che adesso ha un nuovo lancio? Si cambia marcia mi verrebbe da dire, un ampliamento importante più di un raddoppio perché da tre stazioni si passerà a sette, nuova tecnologia di aggancio, nuove applicazioni per rendere il più facile possibile entrare in possesso dell'abbonamento, la criticità come dire è sempre un pochettino più importante, un nuovo punto vendita, quindi nuove biciclette pensiamo che possa avere un grande successo. Ecco, rende tutto più semplice, per il cittadino c'è anche un'app che consente di individuare dove sono sia le biciclette che le postazioni. Non solo, non solo perché permetterà anche di fare un acquisto direttamente di un abbonamento presso la stazione, cioè l'applicazione non ti dirà solo dove sono le stazioni disponibili e le biciclette a disposizione dell'utenza, ma con una facile applicazione potrò anche acquistare un abbonamento al bike sharing.